La mia radio service, Radio Belgrat per i programmi. Vesti. Pravoslavni vernici danas obeležavaju velike ili zimske zadušnice u znak sećanja napreminule rođake i prijatelje. Danas se posećuju groblja, a u crkvama se služe molitve posvećene umrlima. Dali su današnje zadušnice poslednje zadušnice na groblju u Vreocima? Hvala! 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 Il numero di famiglia in cui vivono più familiari, è chiaro anche per individuare e per il progettivismo. Ci sono attraverso il risultato in 130 famiglia. In Vreocima viviamo praticamente in un periodo tempo, perché non sappiamo quando dovremo arrivare per il progettivismo, dicono i mezzani. Planitano e la presenza di Vreocca in Vreocca, con 5.000 humki, per il nuovo grobio in Lazarevcu. Baggeri i Glodari već su stigli na domak groblje i crkve ispod koji su također velike naslage uglja.